Il Molise scommette sul turismo e sulla cultura e lo fa dando vita alla fondazione ITIS Turismo e Cultura Molise, costituita il 3 settembre scorso, della quale fanno parte tra gli altri l'Istituto Scolastico Y di Termoli, l'Unimo, il Comune di Larino, l'Istituto Keplero. L'iniziativa è stata presentata a Campobasso, all'Università degli Studi del Molise, alla presenza dei soci fondatori. Il primo passo per la nascita di questo strumento, che si è già costituita, che farà in modo di aderire e di far nascere un ITIS. Una nuova scuola, una scuola di alta formazione, che speriamo possa dare la possibilità a tanti ragazzi di entrare nel mondo del turismo e di qualificarsi, perché da imprenditore la ricerca è proprio quella di figure professionali, di qualità, che possono dare alle nostre aziende e a tutto il territorio una visione, una possibilità di crescita per il futuro. È stata una stagione molto importante, direi forse unica nella storia del turismo molisano, da cui noi dobbiamo raccogliere delle informazioni che possono servire per dare a questo settore lo sviluppo e il futuro che merita. Direi che il grande successo della stagione turistica di quest'anno in Molise ha determinato anche, non voglio dire una serie di problemi, ma di valutazioni di crescita. Ci sono tante sfumature che devono essere viste anche con un'ottica diversa. Quando si parla di formazione, naturalmente, l'università c'è sempre. Io credo, resto dell'idea, che la strada maestra di un diplomato sia il percorso universitario. Capisco però che quello che il percorso universitario offre probabilmente non è sufficiente, perché ci sono gradualità e sfumature diverse nell'ambito delle persone che possono lavorare nel turismo in questo momento. è cambiato molto l'orizzonte rispetto a quello che c'era solo dieci anni fa e la forza della domanda di turismo che c'è nella nostra regione ci obbliga giustamente a porci delle domande.